Ti faccio saltare il cervello, eh? Ti faccio vedere io a che cazzo ti minacci con la pistola, struzzi, hai capito? Eh? Capito? Allarga le mani. Metti qua, metti qua, cammina con me, gliate la pistola, cammina. Allarga le mani, allarga le mani, davagli la bomba. Sto coglione. Stai fermo. Stai fermo, ti ho detto, che ti ammazzo, viva, con testa di cazzo, cammina. Allarga, metti la mani dietro, cammina. Via, via! Spostatevi! Eh? Metti la mani dietro! Sulla mani! Sulla mani! E non ti muovo! Ti torna nella tasca, deve avere una bomba a mano. L'hai presa, eh? Allora, leviamo il cioccolto. Alza la mano. Oh, alza le mani! Alla la parte! Bostri, vi ho spostato. Non stai addosso, non stai addosso, non stai addosso. Chiamami carabinieri, prendi la manetta. Chiamami carabinieri, prendi la manetta. Chiamami carabinieri, prendi la manetta, ti ha dato disparanza. Ti ha puntato l'ernia addosso. Ah. Fermo lì, non ti muovere. Ecco, bravo, non ti muovere. E non ti permettere mai, ti ti mettermi la pistola addosso. Fermo! Andi muovere. Ok. Ok, portatela non dentro. Ok, c'è la macchina, vai la macchina. Dov'è stata la bomba a mano? Dov'è stata la pistola? E' fuori l'arma? E' fuori l'arma. Faito. Faito. Faito.